Gli ordini e collegi professionali dell'Aquila e Teramo chiedono l'adeguamento dei contributi per gli interventi di ricostruzione e l'abrogazione del termine ultimo per le domande di concessione e contributi. In relazione allo stato attuale dei lavori nel territorio aquilano e in quello teramano, sono due i punti che sono stati proposti e portati all'attenzione del Presidente della Regione Marco Marsilio e di tutti gli altri attori coinvolti nella ricostruzione. Gli ordini e collegi chiedono l'aumento dei contributi per la ricostruzione, i cui costi sono ancora ancorati all'emanazione della legge Barca, ma chiedono allo stesso tempo l'emanazione di un provvedimento che abroghi il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per la ricostruzione privata POSSISMA 2009, a fare il punto il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Le richieste sono sostanzialmente due, uno adeguare il costo della ricostruzione, quindi il contributo che viene dato perché aumentando i preziari aumentano anche i costi delle opere per la ricostruzione ed è giusto perché c'è un rincaro dei materiali e quindi è giusto che vengono ristorate le imprese. Però tradotto in italiano vuol dire che con gli stessi soldi faremo meno opere a scapito della sicurezza degli immobili e anche alla rivalorizzazione del nostro territorio, a cui si lega strettamente anche la scadenza, quando sento parlare di scadenza non ridisco sempre, del 30 settembre 2022 per la presentazione delle istanze di contributo, sempre per il SISMA 2009, all'interno della perimetrazione dei centri storici dei comuni del cratere. È anacronistico. Lasciare questi buchi dove la ricostruzione non può essere avviata o per meglio dire con la scadenza del 30 settembre cosa significa? Andare poi a commissariare gli aggregati e comunque il diritto alla ricostruzione rimane, ma commissariarli non significa altro che allungare ancora i tempi per la ricostruzione, portandola alle calende greche, non è questo quello che vogliamo. Vogliamo che la ricostruzione possa essere ripresa con la stessa vigoria che aveva qualche tempo fa. Rallentamenti, caro materiali, va bene. Quello che sta succedendo, guerra, mi dispiace tantissimo in questo momento, sicuramente ha creato e riverbera anche su tutte le opere da SISMA, ma dobbiamo tornare a delle condizioni in cui possiamo lavorare in ordinarietà. Mettere le scadenze non ha alcun significato oggi come oggi. Mi rendo conto che togliere le scadenze è difficile perché è una legge dello Stato, però un colpo di coda, ce lo aspettiamo da parte di questo governo, un colpo di coda che possa rappresentare qualcosa di significativo nel nostro territorio, non lasciarci così con la ricostruzione che diventerebbe incompleta, cosa che non possiamo accettare. Parlo come territorio, non come ordini professionali. Grazie.